Il caso che vediamo adesso è invece ancora diverso. Ci sono alcuni tratti particolari che vi sottolineo. Parliamo di Bonotto S.p.A., parliamo di un'azienda di più antiche tradizioni, perché è nata nel 1912, quindi siamo oltre un secolo, e non sono tante le aziende che superano il secolo di vita. Ha 219 dipendenti, opera nel campo tessere, in particolare tessuti di alta moda e del lusso, sia in direzione B2B che B2C, investe in ricerca, questo almeno i dati degli ultimi 5 anni, circa il 10% dei ricavi, una cifra impressionante rispetto alle medie domestiche, opera su mercati principali, Francia, Stati Uniti, Cina, quindi copre l'intero globo, e si caratterizza per due aspetti. Uno, perché qui mi hanno scritto che come fattore critico di successo è quello di indossare gli occhiali della fantasia. E il secondo motivo particolare, che poi ci verrà, credo, spiegato, è quello che mentre abbiamo parlato tanto di velocità, di corsa, di voglia di cambiare, di fare in fretta, di anticipare i tempi, e invece Bonotto S.p.A. è il fautore della fabbrica lenta. Allora, con la curiosità che questo porta, io cedo la parola a Giovanni Bonotto, che è direttore creativo di Bonotto S.p.A. Come sapete tutti, il tessile ha attraversato una grandissima crisi, e sta ancora attraversando l'industria manufatturiera tessile, una crisi grandissima. Nel 2007 stavamo per chiudere la fabbrica, ed è nata fabbrica lenta. Una manufattura tessile, che oggi mi sembra abbiamo 103 anni, siamo riusciti a riconvertirci. Sono tanto orgoglioso nel dire che abbiamo chiuso l'esercizio del 2014, come l'anno più florido e il bilancio più felice di tutti i 103 anni di storia. Adesso il dolore di testa è mantenerli. Detto questo, non vorrei tanto discutere sulla nostra attività, sulla nostra storia, però vorrei discutere sui principi che ci hanno fatto fare quel salto, per cui credo, in Veneto, di produttori e manufatturieri tessili, vuol dire con la fabbrica, siamo rimasti in due. Una volta ce n'erano tantissimi, so solo che tra Vicenza, Treviso e Verona c'erano più di 70 aziende tessili, che oggi non ci sono più. Ecco, quindi poi a Como, a Biella, a Prato c'è stata un'ecatombe ancora più evidente. E quindi il tema della crisi. Io vorrei dire che la crisi non c'è una parola che non è neanche da quanto grande, da quanto spaventosa, non è che mi sono sempre rifiutato di capirla. Invece, siamo convinti che la crisi non ci sia, ma ci sia come una grande finestra che si chiude, questa grande finestra contiene un sacco di attitudini, un sacco di atteggiamenti, soprattutto contiene un sacco di clienti, però questi clienti non hanno ricambio. Invece si sta aprendo una finestrella, dove lì c'è, ci sono pochi clienti ancora, però c'è un flusso, ogni giorno si aggiungono clienti nuovi e questa finestrella, incredibilmente, parla un linguaggio nuovo. Ecco, io sono molto, ogni giorno in fabbrica, mi preoccupo per questa finestrella con un linguaggio nuovo, che è dentro questo linguaggio, ci sono le motivazioni del perché scrive, un atteggiamento differente del perché si compra, del perché si produce e si fabbrica e quindi io credo che noi tutti abbiamo una fortuna incredibile. Mi sembra un po' di essere ritornato negli anni del dopoguerra, che non ho visto, però immagino come fossero delle pratterie enormi dove c'erano delle possibilità incredibili perché c'era un alfabeto nuovo. Ecco, io sono felice perché se mi trovavo in questa situazione, ho 47 anni, se mi trovavo in questa situazione negli anni 80 o 90, non avrei potuto fare esattamente, avere la possibilità di creare delle nuove visioni. La mia visione è la fabbrica lenta. Nella vecchia finestra c'era una roba abitata da un signore che si chiamava consumatore. Nella nuova finestra invece c'è il consuma autore. Il consumatore, c'è sempre spiegato a scuola, che è il target, il marketing, il consumatore fa, è come un pedone che fa una casella, avanza, il massimo può andare a sinistra, destra, invece il consuma autore è come nel gioco degli scacchi, il cavallo, che salta indietro, anche, e comunque salta di due e va dove vuole. E non ci sono più delle regole. Ecco, il consumo autore è la finestra nuova. Per cui tutte delle modalità di acquisto e di vivere è un atteggiamento contemporaneo che ha poco da spartire con le modalità antiche. È difficile abbandonare la finestra vecchia che ha tante sicurezze e le aziende sono molto improntate e impregnate sulla modalità del consumatore. Fondamentalmente nessuno sa bene oggi il consuma autore cosa vuole fare. Ecco, quando io, così, mio papà andava in confindustria sentivo un sacco di volte, da piccolo lo accompagnavo, sentivo un sacco di volte i suoi colleghi e la paura che tutti questi colleghi avevano per cui c'era veramente negli anni 90 di aver capito che l'industria manifatturiera italiana aveva perso la sfida del costo del prodotto orario dentro la fabbrica. Quindi produrre in Italia costava, era costosissimo. e tutti questi imprenditori continuavano ed erano molto concentrati a investire i capitali nel fare delle nell'inventare delle tecnologie che abbattesse i costi anzi togliesse sempre di più mano d'opera mano d'opera vuol dire addetti operai e oltretutto producessero allora molto di più e quindi andava molto bene anche in quegli anni sicuramente pensare così perché erano gli anni 90 80 90 2000 dove il prodotto era comunicazione ecco il prodotto era quasi solo la comunicazione tutta questa cosa di produrre logo infatti voi ricorderete bene che bastava fino a qualche anno fa avere una dng nella maglia o anche oggi avere quante appartenenti signore alla moda sono del Vita Club basta avere il logo nel portafoglio nella borsa la H di Hermes io credo che questo è un grande atteggiamento del consumatore ma il consumo autore gioca un alfabeto ha necessità di un alfabeto differente perché nella comunicazione nel prodotto comunicazione non ci crede più e allora quasi inconsapevolmente quando un'azienda falliva andavo sempre a vedere cosa falliva per cosa era successo andavo in cerca nella fabbrica per tentare di non disperdere tutta la cultura che sarebbe frantumata e dispersa e dopo un po' mi attiravano sempre di più le barchesse che erano al di là del Capannone e non so perché e dentro questi luoghi fuori del Capannone c'erano messe lì tutte queste macchine che erano macchine meccaniche e non erano più macchine digitali non erano più macchine elettroniche e preso tanto in giro perché tutti pensavano che non avessi neanche i soldi per comprare più macchine nuove ricordo un giorno arrivò la prima volta che arrivò un container da un'asta fallimentare in Giappone c'erano dentro dieci telaietti meccanici tutti sporchi arrugginiti non funzionanti e i sindacati mi chiamano e mi dicono ma qua cosa succede non abbiamo neanche più soldi per comprare le macchine nuove e io non sapevo neanche bene cosa rispondere però un lampo fu no da oggi in fabbrica si lavora con le Roll Royce d'epoca e infatti sono dei telaietti meccanici che sembrano dei Patek Philippe incredibili fatti tutti di ingranaggi bl manovelle e tutta una tecnologia calda la tecnologia calda è stupenda perché tutti i miei i nostri padri imprenditori avevano fatto io l'ho sempre visto così come delle fabbriche che mi sembravano dei fotocopiatori grandissimi perché tanto avere abbattuto il costo in fabbrica era appunto aver aumentato le performance produttive aver tolto gli operai io mi ricordo bene questi discorsi quando si cambiava una macchina si diceva sempre beh cambiamo sta macchina dai così ci vuole il 20% degli addetti in meno produce molto più stoffa all'ora però fa qualche piccola roba che la vecchia macchina non fa tanto non se ne accorgeva nessuno si diceva sempre ecco un atteggiamento di 20 anni di togliere delle piccole cose che apparentemente nessuno se ne accorgeva e singolarmente era vero che nessuno se ne accorgeva però 20 anni di cultura di togliere hanno fatto che le nostre fabbriche sono diventate come delle gigantesche fotocopiatrici e poi sono arrivati i cinesi più ricchi di noi e sono comprati gli stessi nostri fotocopiatori e noi i manifatturieri siamo rimasti lì ecco che invece gli recupero di riattivare la cultura delle mani dentro la fabbrica di tornare ad avere dei piccoli di avere delle macchine meccaniche per cui nessuno le sapeva più ad operare gli operai hanno lavorato anche gratis di sabato pur di riuscire a rimetterle a posto queste macchine meccaniche riescono hanno riattivato in fabbrica la cultura delle mani e sono riuscite a fare dei punti degli intrecci delle superfici che al mondo nessuno sa più fare e nessuno conosce come fare e questo ha fatto la differenza che noi produciamo molto meno di prima però ha un valore aggiunto incredibile perché il lusso è il tempo nell'alfabeto del contemporaneo e noi stiamo cercando di far di pensare che il lusso è la migliore via per produrre quella cosa lì cioè meglio di così al mondo quella roba lì nessuno è capace a farla questo è un concetto di lusso che io vedo i nuovi ricchi del mondo apprezzano e questa un po' è la storia della fabbrica lenta io credo che riattivare la cultura delle mani poi ho scoperto in fabbrica le persone sono state tanto felici di riscoprire di non essere più di sovrantendenti di processi non essere più a fare start off on ma rimparare un lavoro essere maestro ogliatore maestro ogliatore non esisteva è quel signore che passa in giro per la fabbrica e quando sente una macchina con gli ingranaggi che si stanno per inceppare perché fanno un motore diverso fa e la macchina riparte il filatoio riparte ed è incredibile avere riattivato delle figure con la cultura delle mani perché le persone nelle fabbriche hanno un sole dentro incredibile il valore per rimettere nella manifattura la persona al centro sapete cosa vuol dire che ogni giorno che arriviamo in fabbrica ci suggestioniamo che uno di noi vale 10 cinesi e solo se riusciamo questo è il nostro modo di battere il costo industriale e tutto questo poi siamo convinti che una frase importante appunto siamo convinti che l'Italia debba abbiamo un DNA incredibile noi non siamo un popolo di industriali di grandi industriali gli americani lo sono i tedeschi lo sono noi siamo i figli di Leonardo da Vinci di Benvenuto Cellini di Piero della Francesca quelli sono il grande DNA che abbiamo perché Leonardo da Vinci aveva un'ossessione incredibile personale sua era quella di dipingere l'aria dipingere l'indipingibile ce l'ha fatta quando ho cominciato a fare dalle vergine delle rocce alla gioconda pensate voi un quadretto che è grande 70 cm calamita al giorno 7-8 mila visitatori è fantastico è fantastico perché è riuscito a dipingere l'aria quella è la magia dipingere l'indipingibile il non scritto il non detto il non catalogato e allora Fabbrica Lenta vuole l'obiettivo è produrre dei piccoli capolavori artistici devono uscire dalla fabbrica produrre delle piccole opere d'arte che per essere prodotte hanno bisogno di maestri artigiani che lavorino a regola d'arte ecco perché ci vogliono la cultura delle mani ecco perché ci vuole la cultura meccanica ecco perché abbiamo tentato e tentiamo di abbandonare quello che è tutto i concetti di performance di stressare la fabbrica avere delle grandi performance produttive però vorrei anche dire che non sto parlando di artigianato perché l'artigianato non stiamo vivendo non vogliamo fare avere un coté di artigianato heritage nostalgico ma noi vogliamo produrre in wifi con il linguaggio del contemporaneo con il mood del contemporaneo perché noi come industria manifatturiera abbiamo un'unica sola chance che i nuovi ricchi del mondo siano i primi clienti della nostra cultura e come cultura io non voglio dire solo musei libri ma sono i primi affamati della nostra identità del nostro DNA e per questo motivo per esempio quando la Mercedes ha fatto uno sbaglio incredibile nessuno avrebbe potuto immaginarlo di nell'alto di gamma per il mercato cinese far parlare tutti gli accessori in cinese e i cinesi hanno detto ma come io mi compro la macchina la Mercedes che parla in cinese ma me l'hai fatta apposta per me magari l'hai fatta anche in Cina no 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 io voglio l'originale non capirò niente però voglio la vostra voglio la vera la vera Mercedes e lì quando ho visto sta roba ho capito il DNA che cos'è e i nuovi ricchi del mondo devono essere innamorati del nostro DNA e il nostro DNA è il nostro territorio e tutte le storie meravigliose che contiene il nostro territorio per cui io sono sempre più convinto che la mia fabbrica non è mica più il capanone i muri prefabbricati ma la mia nuova fabbrica la nostra nuova fabbrica è il nostro territorio e tutte le storie che contiene e noi dobbiamo chiedere alle istituzioni che rendano figo il nostro territorio perché se facciamo dei prodotti che seducono i clienti e se siamo e se produciamo dei contenuti di seduzione allora riusciamo a conquistare questi nuovi clienti che appunto solo i nuovi ricchi saranno i nostri clienti saranno i primi clienti della nostra cultura le fabbriche sopravviveranno parlo di industria manifatturiera e poi per finire adesso guardiamo i film io ho avuto la grande fortuna personale che in fabbrica sono transitati una gran parte di quello che sono dagli anni 80 e 90 dagli anni 70 tutto una grande parte di pensiero di artisti contemporanei più grandi artisti dell'ultima parte di 900 e questi artisti hanno lavorato in fabbrica la fondazione e la fabbrica la nostra fondazione è dentro la fabbrica è il primo esempio di avere una fondazione culturale una fondazione di una collezione di arte di 12.000 opere d'arte che sono state prodotte dentro la fabbrica e le opere d'arte sono nei muri anche della fabbrica è stato incredibile quando i sindacati hanno chiesto ma le opere d'arte in mezzo alla fabbrica magari io quando transito ne spacco una mai risposto e se qualcuno la ruba quello è vicino al mio posto di lavoro ma non c'entro niente io mai risposto e un'altra domanda fu quanto costa un'opera d'arte così beh un valore lì c'è un valore di 10 l'altro di 20 l'altro di 30 ha così tanti schei ma se la vedo solo io ecco ci avremmo dovuto fare mille seminari per riuscire a fare capire questo concetto che quell'opera che costa 100.000 euro e che vedi solo tu è solo per te perché tu vali quell'opera lì questa storia di valore economico ha riattivato la cultura delle mani in fabbrica e ha riaperto il sole che ogni persona ogni individuo ha ecco perché essere maestri d'arte maestri artigiani che lavorano a regola d'arte con l'amore dentro la fabbrica e con questa chiave riescono a uscire dalla fabbrica dei pezzi di tessuti incredibili che le signore si strappano dalle mani a prezzi incredibili e arrivano ordini su ordini su ordini ecco fabbrica lenta è un po' questa cosa qua adesso chiudo col filmato che così vediamo è un filmato che prova a raccontare la fabbrica questo è l'ingresso della fabbrica fatto come una casa i miei avi le opere d'arte dentro la fabbrica la fabbrica è vista come un ristorante quindi la cambusa con le materie prima Libra della Tierra del Fuego YAK tibetano e tante altre materie questa è l'entrata della fabbrica gli uffici commerciali il tavolo del consiglio di amministrazione e qui proprio tutte le operazioni dentro la fabbrica io mio fratello adesso a meeting point for artists and craftsmen tutti una serie di artisti questo fu John Cage che ha fatto una sinfonia con le macchine azionando le macchine questo manifesto il sogno quando Yoko Ono ha compiuto 80 anni ha voluto compiere 80 anni dentro la fabbrica e ha lasciato un sognare grandissimo all'interno di una fabbrica questi sono dei telaietti del 1956 è solo perché ci sono queste cordine questi ingranaggi che si riescono a fare delle superfici che al mondo nessuno fa un nuovo modello per l'italiano manufattura over 200 master craftsmen at work 1000 new fabbrics ogni season la cucina del ristorante inventarsi che una tintoria ha delle pentole grandissime dove si affumica con il tabacco del sigaro Kentucky si ribolle l'amarone si tinge quel mirtillo rigoni e avanti delle procedure di questo tipo e appunto dentro un contenitore così l'arte è dappertutto la fabbrica diventa arte la biennale di oggi siamo molto orgogliosi perché la nostra azienda è presente è stata chiamata a partecipare alla biennale come un artista quindi non è più un singolo ma è una comunità che diventa un artista e per noi in questi giorni sono dei giorni di un orgoglio straordinario grazie grazie Giovanni Bonotto io l'avevo provocato all'inizio dicendo che era un caso diverso in realtà è una strada diversa ma che è perfettamente in linea con i percorsi che abbiamo detto perché anche qui c'è stata la ricerca dei nuovi significati e si è realizzata tornando alle vecchie tecnologie invece che andando verso nuove tecnologie ma questo non fa che confermare il punto di partenza di questa di questa serata anche se ripeto una storia molto molto diversa rispetto all'altra l'importante è vedere che se si chiudono delle finestre ce ne sono altre che si aprono e riuscire a sfruttare queste finestre che si aprono in modo corretto che è un pochino più romantico rispetto a quello che si dice nel mondo della finanza di cui mi occupo io in cui si usa dire no problem no money cioè i grandi affari si fanno quando le cose e quando il mercato gira male perché lì vuol dire che si scompaginano gli equilibri consolidati e quindi chi per primo percepisce la nuova regola del gioco è quello che può diventare vincente quindi può fare il miglior bilancio degli ultimi 103 anni questo